Il nostro ospite è arrivato, è arrivato, è arrivato. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Alcutta. Oggi, 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 oggi ascoltiamo una canzone. Sono molto triste, posso dirlo. Perché? Perché? Perché è l'ultima canzone del disco. Eh lo so, ma torna quando vuoi. L'ultima canzone del disco, ma tu, questo posto qua, appena vuoi, entri e vieni. Allora tornerò comunque. Tornerò comunque. Tornerò comunque. Oggi noi ascoltiamo Orgasmo. 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 Che, omonimo, c'è stato pure un film, Orgasmo. Sì. Dinto Brass. No, non era Dinto Brass, ma era... Era di Sorrentino. Ma che Sorrentino? Era con Lisa Castoni, se non sbaglio. Un vecchio film, Orgasmo. Vabbè, comunque. Caetano da Milano, lei che ama questo genere cinematografico, che film era Orgasmo? Orgasmo è quando uno si incavola dentro allo stomaco e poi non riesce più a respirare. Allora si chiama Orgasmo. Vabbè. Allora, Orgasmo è la canzone che oggi ci fa ascoltare Calcutta. Va bene? Faccio io. Faccio io. Parla dell'amore e della passione. Amore e passione. Me l'ha detto l'esperto. Che cos'è più importante, l'amore o la passione, Caetano? Per me tutti e due vanno accoppiati insieme. Quando manca la passione c'è l'amore, quando manca l'amore c'è la passione. Insomma, viaggiano insieme. Vale anche per te, Padda? Sì, sì. Tu, comunque... Cioè, viaggia non contemporanea. Una cosa che ho capito in tutte queste ospitate di Calcutta, che tu fai finta di essere contento, perché in realtà soffri. Perché sei un cantavodore fallito e soffri. Io però... Non ami il successo degli altri. Io però, quando vedo... Calcutta ha un grande successo. Sì, io però... Tu invece ti sei venduto a casa. I tuoi parenti li hanno abbandonati. Tu hai invidia. Non ho invidia. Tu devi avere la coscienza che ti è andata male. Scusa. Quella ce l'ho. Poi in Calcutta non è che il successo è arrivato subito. Piano piano se l'è costruito. È giovane però. La gavetta, la gavettina l'ha fatta. Giusto? Beh, penso anche il maestro. Il maestro ancora è in gavetta. Ancora è in gavetta. Ancora è in gavetta. Vabbè. La gavetta serve? Tanto puoi fare una cosa... Puoi dire quello vuole. Può servire. Può servire. Sempre mediamente. Da Milano, da Milano. Sì, serve molto la gavetta. Perché? Perché la gavetta, se non si impara a fare la gavetta, non si impara a fare niente. Nemmeno un fischio. Tutto arriva dai fischietti ai fischioni. Esatto. Su Gigi, la gavetta. Sai che cos'è la gavetta? Gavetta? La gavetta. No. La gavetta. Cioè, la gavetta del sud. La gavetta dello sport. Non è quella la gavetta. Va bene. Che era la gavetta? La canzone è gavetta. Che è gavetta? Eh? La canzone si chiama gavetta. La canzone si chiama gavetta. Adesso ascoltiamo Orgasmo e poi salutiamo Calcutta che c'ha da fare. Definitivamente. Una serie di concerti tutti già pieni prima che si sappia, la cosa bella, dei concerti di Calcutta è che sono pieni prima di conoscere la data. Che senso? Prima di conoscere, tu non sai neanche. No, no, no. Prima che escano i biglietti è già pieno. Cioè, praticamente tutti i suoi ammiratori l'attendono con ansia. Capito? Allora, come Calcutta... Quindi conviene sapere dove si fa il concerto? Lo saperemo. Conviene sapere dove si fa il concerto oppure uno va a caso? È sempre comodo secondo me. Forse è meglio se si sa. Lo sentiamo, sentiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Milano? Una curiosità, se l'esperto l'ha mai stato a vedere il mio concerto? Gaetano Danilano? Sì, sono andato un paio di volte a vedere. Dove l'hai visto? L'ho visto giù in Sicilia e poi l'ho visto a Trieste. A Trieste? Ti è piaciuto? Molto, guardo. Come eri vestito? Io avevo una gravata a fiordini. No, non me lo ricordo. Con una camicia blu e un cappotto. E faceva freddo a Trieste. Eh, faceva freddo, sì. Va bene, ti salutiamo a Gaetano Danilano e ascoltiamo Orgasmo. Orgasmo. Di Calcutta dall'album Heavy Green. Abbiamo ascoltato Orgasmo e quindi salutiamo Calcutta che è stato gentilissimo a venire a presentare il suo disco intitolato Heavy Green. È stato gentile e quando un cantante gentile, Gaetano, come dice il proverbio? Come dice il proverbio? È molto bravo. È molto affezionato. Così dice il proverbio? In Cina, come si dice il proverbio? Quando un cantante è bravo? È molto bravo. Ah sì. Quando un cantante è bravo? È ciu ciu guai. Aspetta, in Cina, fallo dire a su Gigi. Il proverbio dice, quando un cantante è bravo? Si dice buono, un cantante è buono, bravo. Vabbè. Beh, così è dappertutto, diciamo. Tu sei di Latina. A Latina si dice uguale, si dice uguale proprio. No, noi in dialetto siciliano ci dici purreddo. Pureddo. Quando un cantante è bravo… Si dice purenddo. Pureddo. Pureddo. Ma solo la parola. Una parola sola, quindi quando un cantante è bravo. Sì, quando un cantante non è bravo, sai come si dice? No. Schitta. Schitta. Quando un cantante non è bravo. Cioè, sempre una parola. In dialetto. In dialetto. Per esempio per dire, mi è piaciuto molto questo disco. Come dite voi qua a Roma? Cioè, mi è piaciuto molto sto disco. Sto disco. Noi diciamo, su fatta. Su fatta. Su fatta. Significa quanto mi è piaciuto questo disco. Su fatta. Sì, sì. Ma parliamo così. Vabbè, adesso c'è il medio? Ti interessa il medio, Edoardo? Beh, no, oggi sto in treno, però. E vabbè, che ne sai. Sono protetto. Sono protetto. Vabbè, ti ringraziamo. Grazie mille. Grazie. Su Gigi, hai da dire qualcosa? Bella canzone. Bella canzone. Buon lavoro. Buon lavoro. Ah, grazie. Gaetano da Milano. Sì, sì, è stato un bel ascolto. L'ho sentito appassionatamente, col cuore e con la mente, con l'anima. Beh, beh. Bravo, bravo. Vuoi salutare un telegramma veloce? Sì. E tanti auguri, buon successo. In prossimo. Grazie mille, grazie mille. Tu vuoi dire una cosa? Sì, un bacio. Cinese, bacio, bacio. Bacio, bacio. Baciamolo, baciamolo tutti. Baciamolo. Baciamolo. Ciao Calcutta. Ciao Calcutta. Torna a questa casa spettatela. Tornerò, tornerò. Adesso c'è il medio. Ciao. RÀDIO DUÈ Grazie a tutti.